Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Tante le notizie che affronteremo oggi e torneremo infatti sul caso del terremoto alla cantina sociale Terre d'Oltrepo in seguito alle dimissioni di quattro consiglieri che hanno fatto cadere il CDA. Affronteremo poi il tema dei giovani e del precariato e parleremo anche del nuovo piano casa del Comune di Milano. Queste le notizie principali. Dicevamo proprio in apertura del nuovo piano del Comune di Milano che è stato presentato ieri dall'assessore Pierfrancesco Maran. Tante le novità che scopriamo adesso nel servizio. Alloggi popolari a donne e minori che sono state vittime di violenza e che cercano un domicilio per avviare percorsi di autonomia. Ma non solo perché alcune unità di edilizia pubblica, 316 per l'esattezza, andranno a specifiche categorie di lavoratori di pubblica utilità per Milano. Sono questi i due progetti sperimentali presentati nelle scorse ore dall'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran e inseriti nel piano casa del 2023. Per quanto riguarda il primo progetto, l'assegnazione pratica avverrà appoggiandosi ai servizi sociali del Comune. Il secondo invece, battezzato Casa ai Lavoratori, offrirà 316 appartamenti, oggi da ristrutturare, a particolari categorie di lavoratori che hanno bisogno di vivere in città. Unico requisito, la fascia di reddito tra i 10 e i 20 mila euro. Gli inquilini si farebbero così carico della ristrutturazione dell'alloggio che verrebbe assegnato a canone concordato con parziale scomputo dei lavori. Ma il piano casa non è solo progetti sperimentali, ma anche e soprattutto gestione ordinaria. Saranno 1.700 gli alloggi pubblici che verranno assegnati nel corso del 2023, in linea con quanto accaduto lo scorso anno. Un'attenzione particolare sarà data agli indigenti, ossia coloro, che hanno un reddito ISEE inferiore ai 3.000 euro. A loro sarà riservato il 20% degli appartamenti messi a disposizione dai gestori, ossia MM per il Comune e ALER per la Regione. La presentazione del piano casa, infine, è stata anche l'occasione per fare il punto sull'abusivismo nelle case popolari di proprietà del Comune e gestite da MM. Il quadro che emerge è quello di una continua e progressiva riduzione. Se alla fine del 2021 le occupazioni consolidate erano 636, al 31 dicembre scorso questo numero si era ridotto a 572. Una riduzione dunque importante che diventa ancora più corposa se si guarda ai dati di otto anni fa. Nel 2014, infatti, le occupazioni erano oltre 1.700. Come dicevamo in apertura, torniamo sul caso del terremoto alla Cantina Sociale Terre d'Oltrepò dopo le dimissioni di quattro consiglieri e la conseguente caduta del Consiglio d'Amministrazione. Colleghiamoci allora con Ermanno Bidone per tutti gli aggiornamenti. Sì, buongiorno Benedetta, buongiorno anche ai telespettatori. Ci troviamo proprio a Broni in questo momento, cittadina dell'Oltrepò scossa così come altri comuni della zona da questo nuovo terremoto, come dicevi, alla Cantina Sociale Terre d'Oltrepò, la più importante, grande di Lombardia con oltre 700 agricoltori soci. Nella giornata di ieri, martedì, quattro consiglieri si sono dimessi, tre si erano già dimessi nel corso dell'autunno e di fatto il Consiglio di Amministrazione è sostanzialmente decaduto, rimarrà in carica per l'ordinaria di amministrazione fino al 13 febbraio. Questa è la data comunicata questa mattina dall'attuale Presidente Enrico Bardone per l'Assemblea che dovrà eleggere presso il Teatro Carbonetti qui a Broni il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio attuale dunque decade a meno di un anno dall'elezione. Ricordiamo infatti che era stato eletto lo scorso anno a febbraio dopo la spiducia all'ex Presidente Andrea Giorgi Bardone, che abbiamo sentito e che vi faremo ascoltare nel corso del servizio che andrà in onda questa sera, ha parlato di un fulmine a ciel sereno, visto che comunque le decisioni durante i Consigli di Amministrazione erano state sempre prese all'unanimità e non c'erano stati attriti particolari o visioni discordanti, secondo quanto appunto riferisce Bardone. Dicevamo le dimissioni sono giunte nella giornata di martedì, sono quattro che hanno fatto decadere il Consiglio, tre erano giunte già in autunno che avevano sostanzialmente azzoppato il Consiglio e lo avevano portato da 13 a 10 membri. Le questioni comunque sottolineate da Bardone, dall'attuale Presidente, che può immaginare, ci ha spiegato, possono essere alla base di queste dimissioni, potrebbero riguardare il contratto di solidarietà per 68 dipendenti della Cantina, che si sarebbe dovuto definire proprio in questi giorni, ma Bardone ha parlato anche di possibili condizionamenti esterni sulle scelte di questi consiglieri. Intanto però, se la regia è d'accordo, andiamo a ripercorrere un po' quanto accaduto nella giornata di martedì, una giornata molto convulsa che ha portato appunto, come dicevamo, a questo ennesimo colpo di scena per la cooperativa vinicola dell'Oltrepo Pavese. Dopo meno di un anno dalla sua elezione, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Cantina Sociale Terre d'Oltrepo è caduto a seguito delle dimissioni di quattro consiglieri, recapitate martedì durante la riunione, in cui si sarebbero dovuti rimpiazzarne cooptare, tecnicamente, altri tre che si erano dimessi l'autunno scorso. Dopo queste, i consiglieri erano scesi da 13 a 10 e dopo l'ultimo CDA sono rimasti in 6, troppo pochi. Dopo un lungo periodo di confronti all'interno del gruppo abbiamo deciso, a malincuore, hanno spiegato in una breve nota i consiglieri dimissionari questo difficile passo perché l'azione di governo della cantina non andava nella direzione che noi auspicavamo. Purtroppo, dopo solo un anno, riteniamo giusto tornare alle urne per far sì che si costituisca un nuovo CDA più coeso per affrontare le difficili sfide che ha di fronte alla cantina. Così i quattro agricoltori dimissionari hanno sottolineato la necessità di una nuova governance in questo difficilissimo momento che sta attraversando la cooperativa, la più grande della regione, con 700 agricoltori soci che, assieme a un clamoroso calo di produzione e fatturato dovuto alla vendemia scarsa per la siccità ai costi di produzione e dell'energia alle stelle, deve ora trovare un nuovo gruppo dirigente. Dopo solo dieci mesi di attività di quello uscente che avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso, dopo la presidenza di Andrea Giorgi. Resta in bilico dunque anche la questione del contratto di solidarietà per 68 dipendenti che si sarebbe dovuto definire nel mese di gennaio con i sindacati. Passiamo ora alla cronaca perché questa mattina si è verificato un incidente mortale tra due auto proprio sulla superstrada che collega Magenta all'aeroporto di Malpensa. Il triste bilancio è di un morto e due feriti e secondo i primi riscontri lo schianto che è avvenuto all'altezza di Marcallo sarebbe stato frontale. Vediamo il servizio. Morto un settantenne coinvolto in un incidente a Marcallo con casone lungo la superstrada che collega Magenta all'aeroporto di Malpensa. L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 8 e 30 di mercoledì quando due auto per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute si sono scontrate con un impatto frontale. La situazione è parsa sin dal primo momento molto delicata tant'è che la chiamata alla centrale operativa è stata seguita dall'invio sul posto di due ambulanze, un'auto medica e dell'elisoccorso tutti in codice rosso oltre che degli uomini della polizia stradale di Magenta e dei vigili del fuoco. Il settantenne alla guida di una delle due vetture purtroppo è morto sul colpo l'altro conducente un uomo di 58 anni ha invece subito diversi traumi all'addome al volto e al torace. L'uomo risultava incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto grazie al lavoro dei pompieri arrivati sul posto. Una volta liberato è stato preso in carico dai sanitari ed è stato trasportato in codice giallo per fortuna all'ospedale di Varese. Nel sinistro sarebbe rimasta poi coinvolta anche una terza automobile condotta da un uomo di 51 anni che ha subito invece ferite lievi ed è stato portato in codice verde dall'ambulanza all'ospedale di Magenta. Il terribile impatto è avvenuto alcuni metri prima dell'intersezione con il cavalcavia della strada provinciale 224 che collega il centro abitato di Marcallo Concasone con Buffalora sopra Ticino più o meno all'altezza dell'ecocentro del paese. Restiamo sulla cronaca e spostiamoci a Milano da Giussi Chiricò per la notizia dell'arresto di una donna dalla guardia di finanza mentre in treno trasportava ben 10 ovuli di cocaina purissima. Giussi raccontaci tutti i dettagli di questa storia. Buongiorno a te Benedetta, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, una donna stava cercando di trasportare 160 grammi di cocaina purissima da Milano alla Svizzera, era quello il posto di destinazione. Peccato per lei che però il suo viaggio si è interrotto a Domodossola dove i finanzieri di Verbania si sono insospettiti dopo aver fatto le prime domande di rito alle quali la donna avrebbe risposto in maniera agitata e confusionaria, al che è scattato appunto l'allarme da parte dei finanzieri, hanno deciso di portare la donna di nuovamente a Milano in ospedale per fare dei raggi X e poi i sospetti dei finanzieri sono stati confermati dai risultati di questi raggi. La donna all'interno stava cercando di trasportare 10 ovuli contenenti 160 grammi di cocaina purissima. La cocaina una volta arrivata in Svizzera avrebbe fruttato al grammo dai 70 ai 90 Euro. La donna poi a seguito di alcune indagini è emerso, la donna era di nazionalità nigeriana, si trovava sul territorio italiano da qualche anno, la donna nel 2022 aveva percepito il reddito di cittadinanza. Insomma, aggiunta all'accusa di spaccio di sostanza stupefacente, la donna infine è stata arrestata e trasportata in carcere. È tutto, ti ridò la linea, Benedetta. Grazie Giusy, tra poco torneremo da te. Comunque restiamo a Milano sul caso del trasferimento della scuola per ciechi di Via Vivaio, un trasferimento che è stato dichiarato illegittimo dal Tar, ma ora il Comune ha deciso di fare nuovamente ricorso. Vediamo il servizio. Il Comune di Milano ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Lombardia che ha dichiarato illegittimo il percorso di trasferimento della scuola dei ciechi di Via Vivaio nella nuova sede di Viale D'Annunzio. Il ricorso sarà depositato nei prossimi giorni, ma nel frattempo prosegue l'Iter che porterà al trasferimento della scuola nella nuova sede, come ha confermato in Consiglio Comunale, la stessa vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha anche le deleghe all'istruzione, rispondendo ad una domanda a risposta immediata. L'Iter ha infatti spiegato Scavuzzo, prosegue e l'ultima sentenza ci dice che dobbiamo rivedere il percorso di interlocuzione e per questo il dialogo con la scuola sta procedendo. Per quanto riguarda i lavori di adeguamento della D'Annunzio, la stima dei lavori è di circa 1,6 milioni di euro per la parte edile, mentre per quanto riguarda gli impianti si sono registrati dei rallentamenti dovuti alle difficoltà di reperimento dei materiali. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine di marzo. Ha comunque proseguito la numero 2 di Palazzo Marino, che ha spiegato come una volta chiusi i cantieri ed effettuati collaudi, si potrà procedere al trasferimento della segreteria scolastica durante le vacanze di Pasqua, per poi arrivare al trasloco vero e proprio di lezioni ed alunni dopo l'estate. Torniamo ora da Ermanno Bidone per due episodi di cronaca in cui le vittime sono dei minori. Nel primo caso si tratta proprio di abbandono di minore, nel secondo di maltrattamenti in famiglia. Ermanno, cosa ci puoi dire di più? Sì, Benedetta, due situazioni curiosamente accadute in un piccolo centro quasi in contemporanea, nel centro di Cortiolona, nella bassa Pavese, sono intervenuti i carabinieri di Stradella. Nel primo caso un uomo, padre di due bambini, è stato trovato svenuto, in sostanza sul lettino dei bimbi, completamente ubriaco, la piccola, la più grande delle bimbe di sei anni, sarebbe riuscita a chiamare la madre al telefono, questa si è precipitata quindi a casa, sembra che la coppia fosse in fase di separazione, si è presentata a casa con i carabinieri che appunto lo hanno trovato ancora in sostanza svenuto e hanno fatto anche fatica a farlo riprendere dal suo torpore, una vicenda accaduta proprio questa mattina, per questo l'uomo è stato quindi denunciato per abbandono al Tribunale dei minori, nonostante la brutta avventura i bambini appunto di tre e sei anni stavano bene, sono stati affidati quindi alla madre, grazie anche all'aiuto dei carabinieri della compagnia di Stradella, come dicevamo, della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali del comune. Quasi in contemporanea paradossalmente un altro caso che ha fatto scattare una denuncia per abbandono di minore sempre da parte dei carabinieri a carico di una coppia originaria dell'est Europa che secondo alcune segnalazioni prevenute in caserma era solita lasciare in alcuni giorni la bimba di la figlia di soli cinque anni in casa da sola per l'intero turno di lavoro di otto ore, giunti sul posto i carabinieri hanno appunto appurato che questa segnalazione era vera, per fortuna la bimba sembrava serena quando sono arrivati e stava giocando con un gattino ma per entrambi, per i genitori è scattata la denuncia anche in questo caso per abbandono di minore al Tribunale competente. Grazie Ermano, invece adesso torniamo sul problema del caro bollette che continua a schiacciare anche i comuni più piccoli dell'Interland milanese. A Rozzano infatti l'amministrazione ha dovuto stanziare altri 800 mila euro per far fronte agli aumenti. Un pozzo senza fondo quello delle bollette lo è anche per i comuni costretti da mesi a rincorrere rincari con variazioni di bilancio che vadano a coprire i buchi rispetto alle previsioni di spesa. A Rozzano la direzione degli uffici finanziari del Comune ha stanziato altri 850 mila euro che finiranno nelle casse della Atmos SRL, la società alla quale è stata affidata la gestione del teleriscaldamento del quartiere Aler, della città e degli immobili di proprietà comunale. Il contratto che lega Atmos al Comune prevede il pagamento di un canone di gestione relativo agli immobili di proprietà comunali che ammonta circa 1 milione 200 mila euro. Ma questi 850 mila euro vanno a rappresentare un aumento del 70% del costo base e non giustificato da alcun aumento delle materie prime. Per il sindaco Gianni Ferretti purtroppo questi sono normali adeguamenti previsti dalla situazione e dalla legge. Si tratta di aggiornamenti dei piani economici e finanziari relativi agli aumenti del gas e dell'energia elettrica ha detto aumenti che si stanno adottando in tutta Italia sono previsti dalla legge e non possono essere ignorati. La cifra è proporzionata ai consumi del comune di Rozzano e per rendersene conto, dice il sindaco, basta dare un'occhiata alle bollette di luce e gas di ogni cittadino. Voltiamo pagina e torniamo a Milano dalla nostra Giussi Chiricò che oggi ha partecipato per noi ad un flash mob proprio sotto il pirellone contro il precariato giovanile. Giussi, di che cosa si tratta questa giornata? Sì, questa mattina alle 10 e mezza è andato in scena questo flash mob organizzato da alcuni giovani, appartenenti alcuni anche al Movimento 5 Stelle e altri semplicemente per raccontare le loro storie, il tema principale è stato appunto il precariato. Ecco, come potete vedere dalle immagini questi giovani che si sono riuniti hanno realizzato questo flash mob con la rappresentazione di una canzone, soprattutto in particolare chiamata e intitolata I giovani, scritta appunto per portare avanti questa iniziativa che aveva lo scopo di accendere un faro sul tema del precariato sui giovani. Sono 1.200.000 i giovani che tra i 18 e i 36 anni hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero proprio perché le condizioni lavorative nel nostro paese non sono delle migliori, vogliamo lavorare in sicurezza e il lavoro è un diritto, si legge nei cartelloni dei ragazzi che tenevano in mano durante il flash mob di questa mattina. Allora quali potrebbero essere le soluzioni? Le soluzioni sono salario minimo, anche una delle proposte del Movimento 5 Stelle, investire in formazione ed educazione dei futuri lavoratori del nostro paese e soprattutto si deve anche cambiare linguaggio e approccio nei confronti dei giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro, no ai contratti precari per far sì che appunto i giovani che finisca questa migrazione dei ragazzi italiani, non solo, anche i lombardi chiaramente che si trasferiscono all'estero proprio perché in Italia, in Lombardia non riescono a trovare le condizioni migliori per portare avanti il loro futuro. Questa sera nel servizio chiaramente sentiremo tutte le loro ragioni con le voci dei protagonisti e le immagini del flash mob. È tutto, Benedetta ti ridò la linea. Grazie Giussi, cambiamo adesso argomento e andiamo a Vigevano con la decisione del Comune di estendere fino alla fine dell'anno scolastico il servizio di mensa gratuita per tutti i bambini ucraini che sono arrivati in città a causa della guerra. Vediamo il servizio. Mensa gratis fino a fine anno scolastico per i bambini ucraini arrivati a Vigevano per scappare dalla guerra. È questo il contenuto della prima delibera dell'anno della giunta comunale. A quasi un anno dall'inizio dell'invasione russa il flusso di profughi provenienti dall'Ucraina si è praticamente azzerato. Sono diverse però le famiglie arrivate lo scorso anno che ancora si trovano su territorio vigevanese. Per loro l'impegno del pagamento del buono pasto rappresenta un'oggettiva difficoltà. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare anche per il 2023 il provvedimento che riserva i profughi e la gratuità della mensa. Il beneficio riservato alle famiglie già presenti in città è prese in carico dal servizio di prima accoglienza. Se dovessero arrivare altri nuclei familiari per loro sarà obbligatorio il passaggio al segretariato sociale prima di ottenere l'esenzione. Il provvedimento riguarda gli iscritti alle scuole statali frequentanti corsi a tempo pieno. Lo scorso anno la questione delle mese scolastiche per i bambini scappati dalla guerra mossero venti polemiche. Il comune di Vigevano venne accusato da più parti di aver assunto un atteggiamento attendista nella speranza che le spese venissero coperte dal volontariato e di essersi occupato del problema in ritardo. Quest'anno invece si è deciso di agire con tempestività e prolungare immediatamente il provvedimento scaduto con la fine del 2022 in modo da poter dare pasti gratis ai bimbi ucraini con la ripresa delle scuole dopo le vacanze natalizie e non lasciare nemmeno un giorno scoperto. A Pavia è tempo di saldi invernali. Noi abbiamo fatto un viaggio proprio tra i negozi e tra i commercianti. Vince l'ottimismo anche se tutti sono d'accordo che il periodo di sconto sarebbe dovuto incominciare più avanti. Vediamo il servizio. I saldi come vedete sono iniziati ormai da qualche giorno all'interno dei negozi, del centro storico di Pavia e non solo. Andiamo a vedere come stanno procedendo gli affari. Per noi è in ribasso i saldi rispetto all'anno scorso e due anni fa in continuo regresso. Quindi questo è... Allora il primo bilancio non è né positivo né negativo. Abbiamo lavorato un po' di più il primo giorno nell'epifania, poi il weekend proprio sabato e domenica non si è lavorato niente. Causa un po' magari il maltempo che la gente andava nei centri commerciali. Trascorso il primo weekend di saldi a Pavia abbiamo voluto fare un breve viaggio tra le attività del centro storico per provare a tracciare un bilancio parziale sugli affari. In molti si sono mostrati dubbiosi ma non mancano i negozi dove l'avvio degli sconti ha portato una ventata di ottimismo. All'inizio dei saldi diciamo discretamente bene. Non mi posso lamentare alla fine. Io ho tutta roba di qualità, prezzi giusti sia col prezzo di listino e poi applichiamo i soliti 20, 30, 40, 50 in base a quello che è finito di collezione settembre 2022. Non abbiamo roba vecchia. Un leggero incremento rispetto all'anno scorso quindi forse anche perché Natale sono stati un po' ben dietro quindi adesso con i saldi e gli sconti quindi abbiamo avuto questo leggero incremento. Vediamo le prospettive insomma anche il tempo, le belle giornate anche di oggi se portano in giro la gente a spendere un po' di più. Insomma i pareri sono diversi e si basano principalmente sull'esperienza personale. Non mancano nemmeno le soluzioni creative come quella di un ottico di corso Cavour che guarda anche al sociale. Una sorta di scontistica nel mese di gennaio appunto dei saldi che è un'iniziativa chiamata Rottamazione che facciamo il 50% di sconto su tutto l'occhiale completo quindi sia sulla montatura e sulle lenti e come funziona? Il cliente ci deve donare diciamo dare il suo vecchio occhiale e che questo suo vecchio occhiale verrà rigenerato e dato a degli enti benefici da noi e avrà diritto appunto al 50% di sconto sul nuovo occhiale. Ma c'è un punto su cui molti commercianti si trovano d'accordo, la partenza dei saldi dovrebbe essere spostata. Sono veramente troppo presto questi saldi qua perché tanta gente viene dentro, si sente un po' anche magari fregata perché dice io per Natale ho preso un coso prezzo pieno adesso me lo trovo saldo, non è caso nostro perché noi la roba dell'annata in saldo per onestà non la mettiamo. Io sostengo che oramai sono scaduti in questo senso, porto sempre l'esempio, quando i negozi contavano qualcosa come associazione così i saldi sono nati per fare quello invernale partivano il 15 di marzo quindi avevano una giustificazione per i tre componenti del triangolo di cui chi vende, chi compra e chi direi compra, l'ha comperato prima di Natale, che ha pagato 100 l'articolo che adesso se lo vede fuori a 70-60. Guardi per conto mio verso come una volta, una volta li facevano febbraio ma almeno dal metà gennaio in poi anche verso la fine, dal 2025 per conto mio, perché non è giusto, non è giusto i saldi così presto, non sono giusti, non è serietà professionale, perché noi siamo vecchi commercianti con una certa serietà. Finiamo così questa edizione del nostro telegiornale, io vi ricordo tra poco il meteo e a partire dalle 19 di questa sera l'appuntamento con i nostri telegiornali e l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.